Nel primo mese e mezzo da consigliera regionale mi sono stati accreditati sul conto corrente più soldi di quanti ne abbia guadagnati nell'ultimo anno di lavoro. È la riflessione di Sara Marcozzi del Movimento 5 Stelle che oggi presenta cifre e somme degli stipendi regionali, mentre annuncia alla rinuncia quasi la metà dei compensi previsti per il loro incarico. Lo avevamo promesso e siamo gli unici che oltre a parlare di ridurre gli stipendi di fatto lo fanno. Carte alla mano ecco una ad una le voci dei compensi riservati ai politici d'Abruzzo. Per i consiglieri regionali previsti 11.100 euro al mese, dice Sara Marcozzi, noi lo abbiamo ridotto a 5.000 lordi. Il rimborso spese previsto è di 4.500 euro che i grillini si riducono a 2.500. L'indenità di funzione verrà ridotta a 1.500 euro contro gli attuali 2.800. Solo con queste tre voci di capitolo alla regione Abruzzo il costo della politica risparmierebbe ben 1.750.000 euro annui. Noi abbiamo stimato per i primi cinque anni con questa proposta di legge che presentiamo un risparmio di 23 milioni di euro. Per cui a tutti quelli che ci dicono che è demagogia, che lo facciamo soltanto per far vedere, diamo la testimonianza che non è demagogia perché 23 milioni di euro sono un bel po' di soldi. La proposta prevede poi l'abolizione delle indennità aggiuntive per vicepresidenti e segretari di commissione, attualmente 800 euro, l'abrogazione della polizza aggiuntiva di infortunio o morte, che dice la Marcozzi ci pagheremo da soli, e l'abrogazione del trattamento di fine mandato che porterebbe un risparmio di un milione e mezzo di euro ogni cinque anni. Una vera e propria sforbiciata per le casse della regione. È inaccettabile, noi crediamo che nel momento storico che viviamo, insomma, i politici per primi debbano dare l'esempio, perché siccome ci chiedono sempre, sia a livello di Stato centrale che a livello di Regione, ci impongono delle manovre lacrime e sangue, per la prima volta, così come è stato fatto in Parlamento, anche in Regione Abruzzo avranno tutti i consiglieri, quindi di maggioranza opposizione, la possibilità di dare un segnale ai cittadini, ai loro cittadini e ai loro elettori. Speriamo e vedremo, insomma, come verrà votata questa proposta in Consiglio regionale.